Un anno per il sociale a Mantua Un anno per il sociale, come ti ha spinto a fare questa scelta? Mi ha spinto perché sono stato un ex scout e quindi ho sempre aiutato la comunità per il sociale per la gente che ha più bisogno e mi ispirava parecchio quel progetto lì e mi sembrava utile anche per un domani per mettere anche il curriculum e quindi ho scelto quello Cosa fai nella vita? Studio, università Ingegneria e meccanica a Modena E come puoi pensare che questa esperienza sia utile per il tuo percorso lavorativo e professionale? Ma è comunque un'attività in più che serve anche per essere un cittadino più maturo per conoscere più la comunità che hai tu attorno perché comunque tanta gente non conosce la sua comunità e lì è un progetto che comunque serve per sapere il tuo paese conoscere le difficoltà che hai anche il tuo paese Se ti dovessi chiedere cosa significa cittadinanza Una persona che va a votare una persona che comunque va a sentire i bisogni, il degrado anche comunque i problemi che c'è il comune una persona che comunque si va a informare di quello dove è, dove abita e dei problemi che ci sono è un'attività che ci sono e un'attività che ci sono